Sindaco Rucci, ci siamo, il Festival Rocchi di Marciano, lei ha sottolineato un aspetto che io condivido. Questo festival, giunto alla quindicesima edizione, non è solo di Ripatiatina, ma dell'intera regione Abruzzo. Eh sì, io credo proprio di sì e in questa cosa sto lavorando, sensibilizzando le istituzioni superiori al nostro comune e qui ho chiamato in causa sempre la regione, l'assessorato di competenza al turismo, perché devono collaborare con noi, non collaborare con loro per mandare un messaggio in Italia, ma anche in Europa, nel mondo dell'Abruzzo. Quindi non voglio essere localista, insomma. La box è un'arte antica, quindi noi vogliamo veicolare, diciamo, quello che abbiamo dell'Abruzzo, delle bellezze dell'Abruzzo, dell'arte e tutto quanto nel, diciamo, nel mondo. Cultura, letteratura sportiva e sport saranno sette giorni davvero pregni di contenuti. Esattamente, cultura, arte, sport, premi di contenuto, anche perché io sono convintissimo che la cultura, lo sport e l'arte unisce i popoli. E quindi anche questo è un aspetto importantissimo che vogliamo, diciamo, ogni anno rinforzare e perché con la cultura i messaggi passano e la cultura, chiaramente, è quella che, non solo, come dicevo poco fa, fa unire, ma dà anche la possibilità, va bene, di crescere all'interno della nostra comunità. Ultima, Sindaco, perché è vero, come ha detto lei in conferenza stampa, proprio alla fine, che gli uomini passano, le istituzioni restano come anche i simboli, no? E potremmo definire un simbolo il festival di Rocchi Marciano, Rocchi Marciano qui a Ripatiatina. Però come si fa senza Pallatinetti, visto che sarà l'ultimo anno? Guarda, io dico, fin quando noi esercitiamo un ruolo istituzionale, va bene, abbiamo dei compiti, abbiamo dei doveri, ma al di là di questo, anche quando passa il nostro ruolo istituzionale, la collaborazione si può dare sempre. L'importante è che rimane la passione, la volontà e, diciamo, l'interesse per fare queste cose, perché senza passione, senza volontà non si spinge a niente. Quindi Gianluca, come tutti quanti gli altri, come me stesso, ecco, se si vuole si può dare una mano anche dopo. Pallatinetti, vero Deus ex machina di questo festival insieme con tanti collaboratori, questa è la quindicesima edizione, sembrava un sogno, hai detto bene, in conferenza stampa, è diventato una splendida realtà, anzi direi un appuntamento di indubbio prestigio dell'estate abruzzese. Ti ringrazio delle belle parole, sì, effettivamente sembrava un sogno, quando siamo partiti un gruppo di amici sollecitati dall'amico sindaco di allora, Mauro Petrucci, abbiamo iniziato un percorso veramente importante, abbiamo preso uno spunto da una storia bellissima per dare un'immagine dell'Abruzzo diversa nel mondo, ogni anno adesso ci troviamo ospiti da tutta Italia, ma anche da fuori nazioni che ci vengono a trovare perché abbiamo dato un taglio diverso alla manifestazione da una semplice premiazione che andava a premiare lo sportivo abruzzese dell'anno, siamo riusciti a inserire l'arte, la cultura, grazie a un amico che è il direttore artistico Dario Ricci di Radio 24 e il Sole 24 Ore, che ogni anno si mette a disposizione e riusciamo a fare un calendario di tutto prestigio. Sabato 6 luglio ci sarà il clou di questa manifestazione con tanti premiati, ospiti illustri di prestigio, per esempio Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, Emanuele Cavallucci, l'amatori basket che ha fatto la storia conquistando la promozione in Serie A2 dopo oltre 30 anni, Stefania Belmondo, Maurizio Stecca e poi la menzione speciale a Ennio Leonzio, il collega Daniele Barone, gli ospiti quelli degli ultimi anni, Dario Ricci e Dario Torromeo, insomma due personalità di rilievo, special guest naturalmente, Rocky Mattioli, campione mondiale. Ecco, c'è un po' di tutto in questo festival, come dicevi tu, non solo lo sport ma anche letteratura sportiva e cultura soprattutto. Sì, cultura a 360 gradi, cultura sportiva, avremo l'ospite clou il 3 luglio con la presenza di Marino Bartoletti, un giornalista a tutto tondo, a 360 gradi, uno dei più famosi italiani, ci verrà a trovare, presenteremo il suo libro, saremo insieme, faremo una serata dedicata alle donne, ma dicevi il festival è tutto, abbiamo un concorso letterario che quest'anno ha visto quasi 200 partecipanti, arriveranno premiati e questo mi inirgoglisce moltissimo da Savona, da Sassari, arriveranno qui a Ripetatina per ritirare il premio e questo è molto importante perché riusciamo a portare gente nella nostra cittadina, in Abruzzo, quello che il sindaco prima diceva è l'Abruzzo, il festival Rocky Marciano, il premio Rocky Marciano dell'Abruzzo. Faccio un invito anche alle autorità regionali, come è successo in passato, ad avvicinarsi sempre di più, so che il valessessore Febbo e la giunta regionale del presidente Marsilio già interessata di questa cosa, conosce questa cosa e noi li aspettiamo a Ripetatina dal primo al 7 luglio. Tra l'altro il 5 luglio ci sarà un incontro molto importante di box tra Italia e Francia, lo scenario sarà la cantina che compie 50 anni. Sì, anche questo è un evento, abbiamo fatto un salto di qualità, voglio ringraziare anche chi precedentemente ha organizzato i vari eventi sportivi a Ripa, come il Pugilato, quest'anno la cantina si ripropone all'interno del festival con gli importanti incontri di Pugilato Italia-Francia, è uno scenario bellissimo, in un'occasione molto particolare, 50 anni della cantina di Ripa e soprattutto anche quest'anno, il 2019, il 31 agosto, c'è la commemorazione della morte di Rocchi Marciano, sarà un momento istituzionale anche a Ripetatina, dove andrà di scena la prima di uno storytelling su Rocchi Marciano. Hai gelato un po' tutti però, te lo devo dire, a fine conferenza stampa farei parte ancora dello staff, però non sarai più in prima linea a partire dal prossimo anno per l'organizzazione del festival. Questa la vedremo il 6 luglio, il 6 luglio sveleremo il tutto. Hai già fatto capire qualcosa? No, la famiglia della Rocchi Marciano è grandissima, c'è spazio per tutti, c'è spazio per tutti, noi siamo aperti a tutti, il 6 luglio, dirò la mia decisione, farò parte sempre della famiglia del Rocchi Marciano. Guardate che splendido scenario, in compagnia di Marco Ricciuti, che naturalmente organizza in modo fattivo da 15 anni questo festival, il festival Rocchi Marciano, dal 1 al 7 luglio. È un appuntamento, intanto Marco, imperdibile, ineludibile, no? Potremmo dire così, dell'estate non solo ripese, ma direi abruzzese, come ha sottolineato il sindaco Rucci. Effettivamente è vero, ormai questo premio ha riscosso l'interesse non solo dei cittadini ripesi, ma anche di tutta la regione, ma anche di tutta l'Italia, insomma, perché comunque ci chiedono, tutti quanti conoscono il premio Marciano, tutti quanti sanno la storia di Marciano, che ha le origini ripese, come tutti quanti sanno, e quindi sono orgoglioso di far parte dell'organizzazione che effettivamente, come ricordava anche Gianluca, è nata, ma semplici chiacchierate, con la loro sindaco Mauro Petrucci, e ritrovarsi qui dopo 15 anni, ancora nel premio dell'organizzazione, non può che onorarve me e credo che onori anche i cittadini di Badiatina. Anche perché lo sforzo per organizzare questo evento è davvero pesante sotto tutti i punti di vista. Pesante, però ti do ragione, però devo dire che dopo 15 anni si è anche un po' rodati di come fare, di cosa fare, quando ci si divide i compiti, come stiamo facendo da un po' di anni a questa parte, perché devo dire che in questi ultimi due anni, tre anni, ci si sono avvicinati i giovani, i volontari, che si danno la disponibilità nell'organizzare, nell'allestire il paese, perché devo dire che sono in questi anni ripa, oltre che a colorare il paese dei colori ripesi, ma anche vetrine, paese addobbate nel premio Marciano, nel ricordo di Marciano, nel ricordo di questo campione, che non deve essere assolutamente dimenticato. Il mio auspicio è che questo premio ogni anno crescerà sempre di più. Vorrei sottolineare l'impegno di tutte le associazioni di Ripa Tertina e non solo per la riuscita di questa manifestazione, che ricordiamo è arrivata al terzo lustro, quindicesimo anno. Sì, nel quindicesimo anno ricorre anche il cinquantesimo anno della scomparsa di Marciano, e qui il 31 agosto verrà ricordata anche con un'opera teatrale, che poi avremo modo di parlarne più in là. E quindi questo mi fa onore, perché comunque con una semplice chiamata tutti quanti si mettono a disposizione per aiutarci, qualsiasi cosa c'è da fare, dall'impegno più importante a quello meno, e quindi sono ben onorato. Vuol dire che in questi anni qualcosa di buono è stato fatto e qualcosa di buono verrà sicuramente fatto anche da chi verrà dopo di noi. Bellissima eredità, d'altro che pesante direi, perché insomma è rodata sotto tutti i punti di vista. A proposito, raccoglierà Marco Ricciuti il testimone? No, no, no. Noi guarda, solo per questo tutto, facciamo tutto, non facciamo caso, non guardiamo i vari ruoli, le varie etichette, ci aiutiamo, il sindaco si mette a disposizione di fare qualunque cosa. Non ci sono prime donne. Assolutamente no, questo va ribadito, e se è arrivato nel quindicesimo anno è proprio e soprattutto per questo. Grazie ancora Marco Ricciuti, lunga vita al Festival Marciano, vi salutiamo dalla tenuta di Sipio, guardate che panorama, mozzafiato, c'è anche la piscina. Bellissima, adesso andiamo. Grazie ancora.